Il professor Guido Crapanzano, esperto di numismatica, di teoria della comunicazione e esperto di economia e di finanza internazionale. Ha partecipato tra l'altro come rappresentante dell'Italia alla commissione dell'euro e anche alla scelta grafica del tipo di balconote. Noi possiamo con una breve ricerca su Google trovare molti elementi intorno alla sua pratica. Dirige oggi la web tv il sito finanzafacile.tv dove tra l'altro si possono trovare degli elementi attorno ai quali oggi noi lo questioniamo. Cominciamo con una prima questione, quella più attuale e più importante di qual è la tua lettura della crisi economico-finanziaria dell'Occidente oggi e in particolare ovviamente dell'Italia. Dunque, ci troviamo di fronte a una situazione che non ha precedenti, sta succedendo qualcosa di cui non abbiamo conoscenza, perché il sistema che esisteva liberistico-capitalista si è rotto, non funziona più, cioè è stato imploso per un eccesso di emissione di denaro e di speculazione. Il sistema si basava sul commercio dei beni reali e su qualche speculazione di borsa. Improvvisamente il gioco speculativo è diventata la base operativa più importante. Mentre un tempo l'economia reggeva, c'erano delle persone che si occupavano di finanza, ma erano poche e aiutavano i vari processi di ricerca del credito, si occupavano di investimenti, di borsa, di titoli. Però naturalmente questa era una parte piccola, laterale. Oggi questa parte, quella della speculazione, è diventata fondamentale al punto che l'economia reale conta meno di un decimo di quelli che sono i titoli, ad esempio i derivati, i titoli di cui buona parte sono anche tossici, che circolano. Per cui in giro oggi è difficile capire quello che succede con i vecchi criteri. Quello che hanno scritto gli economisti di tutti i tempi oggi non valgono più, perché il sistema ci è rotto, è imploso. Il sistema è qualcosa che ci permette di prevedere gli eventi. Ad esempio la conoscenza del sistema solare ci permette di sapere quando sorge il sole, quali sono le varie fasi lunari, a che distanza, quando ci sarà qualche evento, o comunque come funziona il meccanismo. Ma se il meccanismo si rompe, tutte le regole, se oggi noi cerchiamo di interpretare quello che accade leggendo Keynes non capiamo niente, perché sono cose che non funzionano più, cioè non c'è più la possibilità di capire. Quindi quello a cui andiamo incontro è qualcosa che nessuno è in grado di prevedere, perché stiamo vivendo un momento talmente diverso da tutti i precedenti che non sappiamo quale sarà il futuro, fino a pochi anni fa. Io ho sempre saputo più o meno come andavano le cose, ma io che ho tanti contatti in Banca d'Italia, diciamo, ma invece chi è anche che segue il mondo delle attività commerciali, dell'industria, del commercio, invece oggi non si può sapere se sta arrivando una tempesta, una rovina, un disastro, un crollo completo, se finisce il denaro, se abbiamo fra l'altro in mente quella curiosa teoria dei Maya. Ogni tanto c'è qualcuno che dice che il mondo finisce. Nel 2012, in dicembre, potrebbe finire il mondo. Io non credo che assolutamente finirà il mondo, però credo che finirà il mondo della finanza a breve. Il mondo della finanza e il mondo dell'economia è destinato a crollare così com'è. Questo denaro che noi stiamo maneggiando non ha più nessun valore. Perché non ha più nessun valore? Il denaro per 2.500 anni da quando è stato creato serviva sia per facilitare gli scambi, ma anche per garantirli. Perché il denaro era una moneta che aveva un suo contenuto intrinseco di metallo prezioso. Quindi il contadino che vendeva una pecora per 10 dragmi d'argento sapeva che dopo un anno o 5 anni con 10 dragmi d'argento avrebbe potuto comprare una pecora. E questo è il principio di base dell'utilizzo del denaro, che è un mezzo attraverso cui commerciare. Facilita il baratto, facilita tutto. Però se il denaro non è più garantito, allora non funziona più niente. E questo è quello che succede oggi. Un tempo, fino a quando c'era la lira, sulle lira c'era scritto cambiabile vista al portatore. E infatti un tempo, ad esempio, quando è nato il Regno d'Italia, il denaro che circolava era del 98,5%. C'era meno del 2% del denaro che era di carta. Biglietti emessi dalla Banca Nazionale negli Stati Sardi. Tutti i resti, il 98%, erano monete d'oro e d'argento. Per cui non ti sbagliavi. Potevi prendere i fiorini, i ducati, i talleri, qualsiasi moneta che esistevano, gli scudi romani. Ed erano tutti equiparabili e tutti avevano un valore. Per cui non c'era il rischio di prendere una moneta di un paese che poi non pagava più, come l'Argentina, o dei titoli. Un tempo poi i titoli non venivano neanche molto emessi. Oggi questo rischio c'è. C'è una strategia dell'oligarchia finanziaria o ritieni che si tratta semplicemente che ciascuno ha cercato la speculazione estrema montando questa bolla finanziaria che stanno pagando, non so se li stanno pagando solo gli stati del sud e dell'Europa, ma insomma sono quelli più toccati dalla richiesta di rientro rispetto a questa bolla finanziaria. La bolla finanziaria... C'è stata una pianificazione secondo te? No, assolutamente no. Allora, esiste un'oligarchia finanziaria e potremmo parlare un impero del denaro perché oggi il mondo è controllato dalle lobby. Non sono più né i politici né gli uomini di potere, i dittatori o i rappresentanti degli stati, i presidenti che riescono a governare. Cioè, loro devono fare obbligatoriamente, dato che sono finanziati e sovvenzionati sia per le elezioni, sia durante il loro mandato dai media che sono controllati da un gruppo di lobby di potere, lobby di potere che sono ad esempio la lobby dei banchieri, la lobby dei petrolieri, la lobby della chimica, la lobby dei medicinali, la lobby di qualsiasi tipo di industria, perché queste lobby hanno oggi il potere di far applicare delle leggi che consentono loro di avere dei profitti. Ma la lobby più potente di tutti è la lobby dei banchieri, che poi sono un numero molto ristretto, questi banchieri, non è che sono tanti. Cioè, quelli bravi che governano il mondo sono quattro o cinque, non di più. Gli altri sono tutti accodati, cercano di mangiare le bricioli di questo grande pasto e spesso ci rimettono le penne e vengono anche maltrattati da quello che si chiama il mercato. Perché la grande invenzione della nostra epoca è il mercato, il mercato a cui, che è una parola vuota, astratta, che è diventato una specie di idola, a cui bisogna rendere conto, di fronte a cui bisogna inchinarsi, la volontà del mercato. Tutto è determinato dal mercato e il mercato è dato dalla globalizzazione. Il fatto che è diventato un grande mercato unico, tutto è un grande mercato unico. Ma il mercato, quello grande, è come il mercato sotto casa, dove ci sono, diciamo, quelli che vendono le mele a un euro, quelli che le vendono a due, quelli che le vendono a due e mezza, a seconda della qualità delle cose che vendono. E la grande leggenda che hanno messo in giro è che chi comanda il mercato e chi comanda il mercato non sono le lobby, ma sono i consumatori, in cui hanno la possibilità di scegliere, paragonando qualità e prezzo, la mela da un euro o da due euro. E questo funziona bene come il mercato sotto casa nostra. Il guai grosso è che però questi lobbisti, ce ne sono 15 mila solo a Bruxelles e negli Stati Uniti sono migliaia quelli che vivono di fianco al Congresso per stimolare e suggestionare e influenzare i politici. E questi lobbisti sono quelli che stabiliscono loro i prezzi. Se ad esempio tutti i banchetti sotto a casa nostra si mettono d'accordo di vendere le mele sopra i 3 euro, allora il consumatore perde ogni potere, non ha più possibilità di scegliere, deve solo subire quello che le lobby gli propongono. In introduzione hai parlato di non sappiamo dove va e hai accennato al fatto che questa finanza che sembra il suo apogeo sta terminando o terminerà. facciamo dire che rispetto a questo c'è una minaccia di distruzione finanziaria dell'euro e dell'Italia? Sì, ormai questa è una certezza, nel senso che già due mesi fa, poco meno di due mesi fa, Tremonti, che è uno degli uomini più lucidi come conoscenza della finanza e del mercato internazionale, ha già detto. Però io ho eluso una domanda che tu mi hai fatto un attimo fa, nel senso che non è che mi hai chiesto solo come funzionano le lobby, ma mi hai chiesto anche quale poteva essere il futuro, come possono andare a finire le cose. È difficile capirlo, perché non abbiamo nessun elemento per capire cosa può succedere. Io credo che fra un po' ci sarà una tale inflazione, cioè la gente di colpo si accorge che il denaro non vale più niente, perché il denaro è come gli assegni che tu puoi fare. Tu fai un sacco di assegni da 500, 1000 Euro, 10.000 Euro e tutti li girano e li accettano, e finché la gente li accetta e se li gira va tutto bene. Ma se perdi la fiducia e tutti vanno in banca e presentano i tuoi assegni, ci si accorge che sei insolvente. Tutti gli stati del mondo, e dico tutti i grandi stati dell'economia occidentale, oggi sono insolventi, ovvero sia gli Stati Uniti hanno un deficit che è superiore al loro PIL, il che vuol dire che per pagare, solo per pagare, le obbligazioni che hanno in giro, i debiti che hanno, i dollari, dovrebbero lavorare per più di un anno senza consumare niente, cosa che è impossibile. In più, oltre a questo, ci sono una quantità enorme che sembra sia addirittura superiore a questa, di obbligazioni, bond, bond spazzature, emesse dall'IBM, piuttosto che dalla General Motors, piuttosto che dalla Exxon, piuttosto che da tutte le grandi società, dalle grandi banche. Pensiamo alle obbligazioni delle banche americane. Bank of America ha in giro tante di quelle obbligazioni come le nostre banche italiane e tutte queste obbligazioni sono dei soldi che poi diventano tutti bit, diventano tutti bit all'interno di un computer, così come i beni reali e i beni fantastici sono tutti dei bit che hanno lo stesso valore. E allora cosa succede? Succede che, fino a che la gente crede alla favola di questo denaro di carta che non ha più nessuna base, perché dal 1971 è stata eliminata la possibilità di cambiare le banconote in oro, il 15 agosto Nixon ha chiuso gli accordi di Bretton Woods e nessuna moneta è più convertibile. Il Giappone addirittura ha un debito pubblico che è il doppio del PIL, quindi non potrà mai pagarlo. E non è solo quello. Noi fra l'altro guardiamo a volte c'erano persone che pensano che la Cina sia un paese ricco, dicono, è il terzo paese, ha il terzo PIL del mondo. E ci si è fatta quest'idea che la Cina sta diventando un grande paese, ma la Cina è vero che ha il terzo prodotto interno lordo del mondo e ha superato il Giappone. Però c'è un fatto, in Giappone ci sono 80 milioni di persone, in Cina ci sono 1 miliardo e 300 milioni di persone. I cinesi sono dei morti di fame, dei pezzenti in rapporto a noi e agli altri paesi. quindi la loro ricchezza è basata solo su uno sfruttamento del lavoro, su uno sfruttamento di persone che lavorano 12 ore al giorno per mangiare 4 ciotole di riso, prima ne mangiavano solo 2, ma non hanno, certo ci sono alcuni ricchi, ma il paese è un paese povero anche quello. Anche diciamo dalla stampa internazionale faccio l'esempio di Le Monde Diplomatica, come tu acceni appunto che di queste oligarchie finanziarie che in questo momento si parla di golpe finanziario, hanno insomma c'è chi scrive chi sono questi responsabili come se comunque questi fossero responsabili nel senso di un complotto sì e poi anche con l'ipotesi dovremmo dire vetero rivoluzionaria che avversare questa cittadella corrispondesse a chissà che trasformazione nella società. Mi chiedo dunque per un verso quale sia l'interesse pragmatico di avere i nomi cognomi diciamo di questi responsabili era in tal senso nel numero di questo mese l'articolo di un ricercatore belga un certo Geoffroy Guens che dà i nomi cognomi anche e dice per esempio tutte le implicazioni dei ministri più noti del nostro governo come ciascuno abbia a che fare con queste banche e con i gruppi internazionali ora io mi chiedo invece piuttosto le vie di uscita che qua e là vengono disegnate come quella dell'emissione dello Stato con l'emissione di moneta sovrana rispetto a questo l'Europa allora o da una parte comincerà qualcuno a uscire l'Islanda ma potrebbe farlo la Grecia non è ancora completamente chiusa la partita ma se le teorie le nuove teorie della moneta indicano che la sovranità nell'emissione sia una possibilità pratica e precisa insomma di farcela non potrebbe diventare sovrana nell'emissione l'Europa stessa al posto di dover per le sue emissioni chiedere crediti che avvallino cioè vanno a ritirarseli da banche private per cui comincia il giro di come dire non è un'emissione sovrana anzi bisognerà pagare interessi per le cifre che si vogliono mettere in giro è così o o non sto leggendo bene questa teoria della moneta moderna no hai fatto un bel giro di domande velocemente vediamo dunque prima di tutto esiste un ristrettissimo un ristrettissimo gruppo di grandissimi banchieri che hanno in mano diciamo le leve del potere sono loro in realtà che comandano due giorni prima di essere eletto Obama aveva detto è ora di finirla con questo potere di Wall Street che è in grado di condizionare la maggioranza della nazione ed era in buona fede ma poi quando è diventato presidente non ha potuto fare niente avrebbe voluto fare tante belle cose ma non le ha potute fare perché a conti il congresso e i politici sono finanziati da queste grandi lobby allora queste grandi lobby fanno questo non perché facciano dei complotti o per cattiveria o perché sono buoni o cattivi è perché ormai la logica del profitto a breve termine a qualsiasi costo ha contaminato il nostro sistema capitalistico non c'è più interesse per il profitto intellettuale per la soddisfazione di quello che si fa un tempo gli industriali erano felici di fare le cose che facevano erano orgogliosi dei loro prodotti oggi invece io avevo un compagno di scuola che era un figlio di un grande cotoniere e il papà era tutto contento di fare questo cotone ma co importante ritorto durissimo che costava ed era gli industriali per anche per il loro piacere per essere riconosciuti come persone per bene tutti vogliamo essere amati costruivano gli ospedali questo questo mio amico che si chiamava Bernocchi aveva 1600 operai e la famiglia aveva costruito l'ospedale di Legnano aveva fatto le case per gli operai perché perché il profitto era una una dei vantaggi ma c'era anche la volontà di risultare piacenti di apparire di essere amati che è un'esigenza che abbiamo tutti oggi un industriale non pensa più a costruire a fare diciamo le fabbriche a fare il bene degli operai a produrre beni pensa a speculare e fa i soldi con i soldi invece di fare i soldi con il lavoro non crea lavoro ma crea posizioni speculative quindi questa logica del profitto ad ogni costo è quella che ha rovinato diciamo il capitalismo e il liberismo capitalista noi sappiamo che è nato all'epoca di Ford Ford pagava grandi stipendi ai suoi operai dicendo che in questo modo diventavano ricchi e compravano le macchine era una logica tutta diversa da quella degli industriali di oggi questo lo dico per dire che questi grandi lobbisti questi grandi banchieri non hanno nessun intento diciamo complottistico loro non ce l'hanno con nessuno pensano solo a fare i soldi nel modo più veloce possibile interrompiti non c'è nessuna cattiveria in loro è un fatto di soldi viene in mente in alcuni film della mafia quando si sparava è solo una questione di dollari è solo una questione di denaro se poi per guadagnare tu devi fare le mozzarella fatte con lo sterco di mucca che poi fanno male avvelenano la gente insomma questo non si può fare tutto se per guadagnare devi fare dei prodotti che danneggiano la società e non hai più l'orgoglio di fare qualcosa per te di fare qualcosa per gli altri e allora quando la logica del profitto diventa predominante succede quello che sta succedendo oggi quindi questo per rispondere alla prima domanda invece la seconda domanda sul diritto di signoraggio che è la possibilità di emettere denaro il grande errore della comunità europea che si è creata e della moneta unica è stata che ha tolto la possibilità di emettere soldi di emettere denaro perché il denaro a volte può non essere sufficiente anche fra persone oneste abbiamo bisogno di investire più ad esempio se un'azienda che ha un miliardo di fatturato all'anno riceve un ordine grande di 2 miliardi ha bisogno per acquisire il materiale che gli serve per la produzione di avere delle sovvenzioni e questo può succedere nei momenti più tristi gli americani sono usciti dopo gli anni 30 dalla grande crisi proprio perché hanno fatto debiti hanno investito i soldi che non avevano in struttura in strada in lavoro quando mancava il lavoro oggi noi non possiamo farlo usiamo una politica del rigore che è una politica apparentemente perché segue i vecchi criteri economici ma noi non avevamo bisogno di un professor Monti ci bastava un vidello per fare le stupidaggini che stanno facendo oggi mi spiace essere così violento e aggressivo però questo signor Monti che è arrivato io per più di un mese sono stato a guardarlo con attenzione e senza esprimere giudizi poi pian piano mi sono accorto che anche lui è un uomo del sistema è un uomo del potere a parte che lui era un uomo di Goldman Sachs e lo è sempre stato ma tutti sono uomini di qualcuno ad esempio io ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere molto bene il primo governatore della Banca Centrale Europea poi sono diventato amico di Trichet che è diventato il secondo governatore ho scritto anche degli articoli su di lui Trichet è un uomo legato a Rothschild chiaramente un uomo di Rothschild e Rothschild oggi è il proprietario fra le altre cose governa e gestisce il Credit Suisse l'UBS e la Deutsche Bank non è che c'è solo le banche Rothschild e tutti gli uomini di potere il nostro Draghi che pure io ho conosciuto con cui ho avuto un rapporto molto cordiale è un uomo che viene da Goldman Sachs che era super advisor di Goldman Sachs responsabile per l'Europa faceva parte della Trilateral la Trilateral era una società fatta da Rockefeller così come era membro dell'Aspend che è una società fondata dalla famiglia Rockefeller in questa località di cui adesso il presidente è Monti e dentro all'Aspend ci sono dei personaggi incredibili ad esempio Prodi è membro dell'Aspend Fassina è membro dell'Aspend l'Annunziata è membro dell'Aspend potrei continuare facendo un sacco di nomi però voglio dire questi ormai hanno un tale potere che sono loro che determinano chi va al potere ed è un gruppo un'etnia formidabile fra l'altro di grande intelligenza perché sono molto più intelligenti della media anche di noi sono più bravi più capaci per cui riescono a fare degli affari ad esempio i derivati sono strutturati in un modo così complesso con un'ingegneria strutturale così difficile che non si riesce bene a capire che cosa valgono e loro giocano sul fatto che danno delle provvigioni enormi a chi sottoscrive i derivati i nostri enti pubblici lasciamo andare comunque anche il ministero del tesoro ha tanti di quei derivati appena pagati 3,4 miliardi di dollari alla Goldman Sachs per perdita sui derivati negli ultimi anni mi fermo qua perché un'ultima domanda abbiamo due minuti a disposizione siamo in chiusura dalla tua analisi io colgo diciamo un fermento di lettura un fermento culturale ma quali possono essere aspetti pragmatici di questa lettura io non sto dicendo movimenti politici e questo ma come cogliere l'aspetto pragmatico che tenendo conto di queste di questi come chiamarli insomma di questi problemi in quale direzione può andare cioè una volta che si intendono queste cose qual è la direzione una scuola differente che ne so all'università dove si insegnano ancora teorie economiche e finanziarie che non hanno nulla a che vedere con quello che sta accadendo cioè mi chiedo quale può essere l'aspetto pragmatico di questa lettura di cui ti ringrazio molto insomma non è che ne trovo su multimedia insomma questi elementi c'è qualcosa di pragmatico oltre il dibattito culturale che è importantissimo perché è chiaro che se non c'è questa apertura non c'è chi intende però sì prego ecco diciamo una cosa userei la frase una frase che usava un pontificio anche se perché è quella che noi non abbiamo bisogno di maestri ma di esempi dobbiamo rifarci al fatto che le banche sono nate per favorire sia i ricchi ma soprattutto i poveri le banche come il monte dei Paschi come il banco di Napoli quando sono nati nascevano da dei monti monti dei poveri fatti per aiutare chi ha difficoltà a uscire dalle spire dell'usura oggi le banche sono diventate loro stesse una fonte di usura appena possono non puoi più fidarti una volta noi andavamo in banca con la stessa fiducia con cui andavamo dal farmacista a chiedere un consiglio perché avevamo un malessere oggi non puoi andare in banca a chiedere un consiglio su come investire i tuoi risparmi perché viene imbrogliato perché i funzionari che lavorano nelle banche questo è un fatto palese e che si occupano di investimenti ricevono ogni mattina delle note su cui dicono il signor tal d'Italia ha 20 mila euro che gli scadono fagli comprare questo e non ti fanno comprare quello su cui guadagna il cliente ma quello su cui guadagnano loro il fatto che sono stati venduti tanti titoli tossici e perché sui titoli tossici ci sono delle provisioni inaudite mentre se tu vendi qualsiasi prodotto finanziario la banca guadagna un massimo dell'1% in genere qualcosa meno sui derivati arrivi a guadagnare dal 9 al 10% di questi il 2% vanno a chi vende direttamente il 4% 3-4% vanno alla banca e il resto servono per le tangenti per fare comprare ai funzionari pubblici questi prodotti quando non vengono venduti i funzionari pubblici vendono venduti a industriali che hanno bisogno di soldi e sono presi per la gola e allora per ottenere un prestito un caro amico che noi conosciamo bene quando ha ottenuto un credito un mutuo per 60 miliardi da una grossa banca italiana poi non occorre essere tanto dal credito italiano è stato costretto a prendere anche 18 miliardi di derivati e gli ha detto non si preoccupi questi li servono per tutelarsi quando rimangono qua depositati lei li può usare e poi su quei 18 miliardi uno ne ha perso più della metà guarda caso quindi ti imbrogliano non puoi fidarti allora bisogna ritornare a un discorso di adesso è facile parlare di etica etica e finanze sembra che non vadano insieme però possono anche funzionare bisogna allontanarsi da questa logica del profitto ad ogni costo e con qualsiasi mezzo d'accordo e ringrazio il professor Guido Crapanzano ricordo che il sito sulla finanza si chiama finanza facile punto tv e e e se c'è l'occasione ci diamo appuntamento per qualche altra elucidazione di questa materia che non tutti noi insomma ne siamo doti grazie Guido grazie tante Giancarlo grazie a presto